Il termine rasta è spesso abusato, ogni volta che incontriamo qualcuno con i dreadlocks in testa, noi italiani lo chiamiamo rasta, ma voi lo sapete cosa significa rasta? Scommetto che molti di voi non ne hanno proprio idea, anzi identificano il rasta semplicemente in qualcuno che porta quell'acconciatura e magari fuma marijuana o ascolta il rec di Bob Marley. Va bene, allora, visto che parliamo di Bob Marley, provate ad ascoltare una sua canzone, si intitola Iron Lion Zion, cercate il testo, leggetelo. Le canzoni di Bob Marley non sono esattamente canzonette, lasciate stare il ritmo ipnotico che comunque è voluto, hanno un messaggio di fondo, un messaggio evangelico. Perché Bob Marley, come tanti altri, giamaicani e non solo, era un fedele di un settarismo, il settarismo rastafariano, che non significa solo esclusivamente farsi i capelli con i dreadlocks, e poi per un certo motivo. Significa seguire una dottrina, una dottrina improntata a una visione del cristianesimo, una visione che nasce e si afferma circa un secolo fa, e che prende il nome dall'ultimo re dei re, dall'ultimo discendente di Salomone, dall'ultimo imperatore di Etiopia, dal Negus Negesti, Ras Tafari Mekonnen, meglio noto come Aileserassie. Questa è la sua storia. Per noi italiani Aileserassie ha rappresentato per tanto tempo un imbarazzo, e come potrebbe essere altrimenti? Non possiamo dimenticare l'aggressione all'Etiopia, maturata nel 1935 e conclusa nel 1936. Un anno di guerra che il fascismo, Mussolini in persona, volle per dare, si disse all'epoca, all'Italia un posto al sole, cioè giustificare le ambizioni colonialiste e imperialiste dell'Italia fascista, nei confronti di una delle due nazioni indipendenti in Africa all'epoca. C'era la Liberia, fondata per gli schiavi liberati dagli Stati Uniti, e c'era l'Abissinia, l'Etiopia, che orgogliosamente aveva mantenuto la propria indipendenza ancora a fine dell'Ottocento, sconfiggendo l'Italia, che durante il governo Crispi aveva cercato di sottomettere la zona ai propri voleri, dopo aver già stabilito delle colonie in Eritrea e in Somalia. L'Etiopia era indipendente, era uno stato estremamente complesso, ed era lo stato in cui Tafari Mekonnen era cresciuto come rampollo di una famiglia nobile ed aveva imparato l'arte sottile e a volte estremamente brutale della politica. Tafari Mekonnen era nato nella RAR il 23 luglio del 1892, figlio di un ras, cioè di un capo, di un nobile, Mekonnen Huoldemichael, governatore della RAR, governatore ovviamente copto, di una terra in gran parte musulmana. Tafari era stato cresciuto nella fede copta, come era usanza nella nobiltà, e aveva conosciuto la corte imperiale dello zio Menelik II già da bambino. Ad appena 13 anni, nel 1905, Tafari Mekonnen era stato nominato governatore della RAR in sostituzione di suo padre. Immaginate, un ragazzo a capo di un'enorme regione, un ragazzo che però era cresciuto molto in fretta, non tanto fisicamente, aveva sempre mantenuto la struttura da scricciolo, ma a livello intellettuale. Era stato educato alla corte imperiale, nei monasteri copti, dei gesuiti francesi, non parlava solo l'idioma locale, ma anche l'arabo, il francese. E dopo un po' aveva imparato anche l'italiano e l'inglese. Era diventato un giovane cosmopolita, si era sposato giovane, come era usanza all'epoca, e avrebbe avuto tanti figli. Ma inizialmente si pensava che la carriera di Tafari Mekonnen sarebbe stata tutto sommato modesta, finché la corte imperiale non gli aveva riconosciuto le capacità di poter ambire altromo, di poter diventare imperatore. Immaginate l'Etiopia, un terreno molto difficile, con tante tribù differenti, e un imperatore seduto sul trono ad Addis Abeba, la capitale, condannato a mediare tutti i giorni tra le istanze delle varie tribù. L'arte della politica, l'arte dell'intrigo, faceva parte del bagaglio culturale fondamentale di ogni buon imperatore. E quando si era aperta la corsa alla successione, la corte inizialmente aveva indicato Yig Yasu, un principe incaricato come reggente dopo la morte dell'imperatore, addirittura con l'approvazione sia dell'imperatrice Vedova che dello stesso Tafari Mekonnen, che gli avevano giurato obbedienza. Ma era tutta una manovra. Yig Yasu, mai incoronato, iniziò a cedere alle lusinghe che arrivano dall'Europa, soprattutto dalla Germania. Siamo nella metà degli anni dieci del secolo scorso, periodo di grande guerra, periodo in cui l'Europa è in fiamme. Questi suoi ammoreggiamenti con la Germania, unite alle maldicenze secondo cui si fosse convertito all'Islam, anche in assenza di prove concrete, ma in uno stato in cui l'imperatore era anche il difensore estremo della fede copta, essendo discendente di Salomone, non poteva essere tollerato. Sarebbe stato lo stesso Tafari Mekonnen a mettersi a capo di un colpo di stato che avrebbe esautorato Yasu, ponendo sul trono temporaneamente l'imperatrice Zauditù come reggente, in attesa di mettere lui le mani sul trono. Avrebbe dovuto aspettare un pochettino. Però intanto era già immersa l'arte diplomatica di Tafari Mekonnen, che era riuscito a portare dalla propria parte la Francia, che da Djibouti comunque lo finanziava, l'Inghilterra e l'Italia. Sì, quell'Italia che non era più l'Italia di Crispi, non era più l'italietta colonialista. Era un'Italia che guardava verso orizzonti in grande, che voleva diventare una vera potenza e che aveva bisogno di alleati nella regione. Nonostante il colpo di stato fosse stato seguito da alcune rivolte nelle campagne, proseguite fino al 1924, Tafari Mekonnen aveva intessuto la propria tela in maniera sempre più fitta, sino a diventare intoccabile, sino a costringere l'imperatrice Zauditù a rinunciare al potere, ormai malata, e a favorire la sua salita al trono imperiale, a farsi proclamare lui, cugino del precedente imperatore, Negus Negesti, re dei re, ultimo discendente della dinastia salomonica, con un nuovo nome, Ailes Elassie, che significa Potenza della Trinità, un nome biblico, scelto appositamente. Da quel momento in avanti Ailes Elassie era diventato un protagonista della scena internazionale, aveva iniziato a viaggiare, voleva modernizzare l'Etiopia, e intimamente nutriva una profonda simpatia per il fascismo italiano. Strano, vero? Non l'avreste mai detto. Ma gli studi condotti da Angelo Delbocca e le interviste rilasciate molti anni dopo, dallo stesso Ailes Elassie alla giornalista Oriana Fallaci, avrebbero confermato. Ailes Elassie sotto sotto amava il fascismo italiano. Gli piaceva come modello. Un uomo al comando di uno stato complesso, uno stato ancora agrario, ma con una forte spinta verso l'industrializzazione, verso il futuro. Anche per questo, quando Mussolini decise di aggredire l'Etiopia, Ailes Elassie rimase sorpreso, deluso, come se fosse stato tradito dal miglior amico. Non ci voleva credere. Ma come? Lui, che qualche anno prima era andato a Roma da Mussolini, era stato ricevuto con tutti gli onori, ora veniva tradito da quello che considerava il miglior amico in Europa. Perché? Perché l'aveva fatto Mussolini? La guerra che si era sviluppata e che sarebbe stata tragica, con accusa reciproche di crimini di guerra, gli italiani che accusavano gli etiopi di aver utilizzato proiettili dum-dum, esplosivi, vietati, l'Italia, riconosciuta colpevole in ambito internazionale di aver utilizzato i gas asfissianti, anche questi proibiti, era esplosa. Esplosa nel 1935, il 2 ottobre, e si sarebbe conclusa solo il 5 maggio del 1936, con la caduta di Addis Abeba. E L.S. Lassier aveva assistito alla caduta del suo impero, alle sconfitte di un esercito che non era più quello di Menelik, non era più un esercito competitivo di una guerra moderna. La leggendaria resistenza del combattente etiope sulle lunghe marce a piedi non bastava più, in una guerra dominata dall'arma aerea e con moderne artiglierie l'Etiopia non poteva vincere. Nemmeno con le sanzioni decise dalla Società delle Nazioni contro l'aggressione italiana, per condannare quello che era l'attacco vile produttorio gratuito ad una nazione sovrana. E L.S. Lassier aveva abbandonato Addis Abeba poche ore prima che arrivassero le colonne italiane, con un treno che lo aveva portato a Gibuti, colonia francese. Da lì si era imbaccato per l'Inghilterra, in esilio, senza rinunciare però a pronunciare le parole di condanna alla Società delle Nazioni, nei confronti non solo dell'Italia che aveva aggredito, ma di chi aveva permesso questa aggressione. Ospite degli inglesi, L.S. Lassier comunque aveva sempre chiesto di restaurare il trono di Salomone. Aveva sempre cercato di ottenere un risarcimento che non fosse in denaro, ma che fosse morale e poi politico. Un risarcimento che sarebbe arrivato cinque anni dopo. Perché quando nel 1940 l'Italia entra nella Seconda Guerra Mondiale al fianco della Germania nazista, L.S. Lassier chiede e ottiene di poter guidare in prima persona una colonna mista tra combattenti tigrini ed etiopi e truppe indiane e inglesi alla riconquista dell'Etiopia. In un moto biblico, d'altronde la Bibbia ha sempre accompagnato la sua vita, la chiamerà la Gideon Force, la forza di Gedeone, mitico combattente della Bibbia. E alla testa della Gideon Force, a L.S. Lassier, tornerà a casa. Certo, molto dipenderà dagli inglesi, che vinceranno le battaglie campali in Etiopia. Ma esattamente cinque anni dopo aver dovuto abbandonare Addis Abeba, L.S. Lassier torna, torna al piccolo Gebi, il palazzo imperiale fatto costruire da Menelik. Torna sul suo trono. E nonostante gli inglesi premano affinché egli espella tutti gli italiani presenti nel paese, con una mossa a sorpresa, L.S. Lassier decide di tenerli, tenere i civili italiani di dove sono. Nessuno li avrebbe dovuti toccare. Perché non era stupido, L.S. Lassier. Aveva capito innanzitutto che gli italiani avevano importato in Etiopia la classe media, che prima non esisteva. Avevano avviato attività commerciali, avevano portato fabbriche, costruite ferrovie, strade, acquedotti. Serviva la mano d'opera italiana, serviva la classe media italiana all'Etiopia. E quegli italiani non se ne sarebbero andati, se non oltre trent'anni dopo, ma per altri motivi. Menelik era stato un sovrano potente, temuto, riverito, ma non illuminato. L.S. Lassier si sarebbe dimostrato molto più intelligente di lui, anche negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Già perché avrebbe iniziato ad avviare un percorso di avvicinamento dell'Africa alla scena mondiale, creando l'organizzazione dell'unità africana all'inizio degli anni Sessanta, facendosi promotore davanti all'ONU di discorsi anticolonialisti, antiimperialisti, e contro lo sfruttamento delle risorse naturali dell'Africa da parte dell'Europa e degli Stati Uniti, chiedendo il riconoscimento della piena sovranità degli africani sulla propria terra. Era nato lì il Rastafarianesim, Rastafari Mekonnen, l'uomo che aveva dato una nuova speranza alle genti di colore, che aveva dimostrato con le parole, più che con la violenza, che il messaggio africano era valido. I dreadlocks, che in realtà rappresentavano la capigliatura del mitico Sansone, sarebbero stati adottati come simbolo da chi professava il credo in Rastafari Mekonnen, Ailesse Lassie, potenza della Trinità, difensore della Bibbia e del cristianesimo in Africa, difensore soprattutto di un modo diverso di vivere il cristianesimo. Anche se bisogna dire che sotto il regno di Ailesse Lassie, la chiesa copta, aveva recuperato interamente il proprio potere e si erano acuite le differenze. Sempre Oriana Fallaci raccontava di come le visite dell'imperatore alle varie province dell'impero fossero vissute come eventi misti tra concerti di rock star e happening della fame. Dovunque andasse l'imperatore era seguito dalla corte e dal clerocotto, e venivano allestiti grandi banchetti. I poveri sciamavano a migliaia, decine di migliaia, seguendo questa carovana imperiale, e ogni volta chiedendo, semplicemente non un pasto caldo, ma gli avanzi della tavola imperiale. Quando venivano macellati i montoni per provvedere ai lauti pasti dell'imperatore, soprattutto del clero, i poveri ululavano, un lamento lungo, straziante, ma non gli veniva gettato nemmeno un osso. Gli ossi erano per i cani, per gli avvoltoi, coi poveri che continuavano a lamentarsi, a piangere, a ululare. La grande stortura del regno di Eilesse la Sier era questo, il grande ecumenismo all'estero e pugno di ferro all'interno. Anche la stessa comunicazione all'interno dell'impero etiopico era su modello fascista. Sempre Raffallacci raccontava di come, ovviamente in Etiopia non ci fosse ancora la televisione, ma la radio diffondesse esclusivamente bollettini imperiali. Non importava cosa accadesse al di fuori dell'Etiopia, non importava nemmeno che accadessero dei fatti cruenti, come l'esplosione di un aereo o un incidente stradale tragico. No, ogni giorno il radiogiornale si apriva sempre e comunque con le parole «Oggi sua maestà» e parlava dell'inaugurazione di un acquedotto, di un tratto ferroviario, di un ospedale, di una decisione dell'imperatore in qualche materia. Mai di altri fatti. E lei serassia aveva comunque dei figli, tanti figli. Sua moglie aveva dato alla luce una numerosa prole, principi e principesse. Il diretto aspirante al trovo era il principe Aspawosson, un debole secondo molti. Al punto che quando a metà degli anni Sessanta il padre si assentò per presiedere una delle prime riunioni dell'Unione Africana, Aspawosson finì al centro di un intrigo di palazzo, un tentativo da parte di due fratelli, uno militare e l'altro amministratore civile, di prendere il potere e di instaurare la Repubblica in Etiopia. Un tentativo andato non a buon fine, perché l'esercito rimase fedele all'imperatore, perché l'imperatore tornando a casa ebbe l'appoggio degli inglesi e degli americani. Aspawosson, che era stato forse ingannato dai golpisti, cadde in disgrazia. Non venne più considerato dal padre, ebbe salva la vita per carità, ma da quel momento sparì dalla scena pubblica, al punto che il suo posto come pretenente al trono venne preso dal fratello minore, ma con Enna e il S. Lassie. Col passare degli anni, il S. Lassie divenne sempre più cupo all'interno del proprio regno, sempre più insofferente nei confronti di tutte le lamentali che arrivavano, anche per le varie carestie che periodicamente flagellavano l'Etiopia. Il suo ritorno in Italia dal 1970, ospite del presidente Giuseppe Saragat, fu un tentativo anche di far pace 35 anni dopo quell'aggressione proditoria, fu un tentativo di riallacciare rapporti con l'economia europea, chiedendo investimenti in Etiopia, investimenti che non sarebbero arrivati. Anzi, la situazione in Etiopia sarebbe degenerata sempre più. Altre carestie, altre rivolte. Nel 1974, gli ufficiali dell'esercito, per la prima volta, decidono di ribellarsi completamente all'imperatore. Sono guidati da una giunta, una giunta dominata da un personaggio sinistro, che si chiama Mengistu Ailem Ariam. È un ufficiale, è di fede maoista, ha simpatie per l'Unione Sovietica, e ha costituito una giunta chiamata Derg, composta da uomini a lui fedeli. Il Derg, nel giro di poche settimane, prende il controllo dell'esercito, e lo rivolta contro l'imperatore. Ailem Sera sia divenne ostaggio all'interno del piccolo gebì. Non è più libero di fare ciò che vuole, di muoversi, nemmeno di firmare leggi. Anzi, i provvedimenti gli vengono sottoposti per la firma dal Derg, con la minaccia fisica delle armi. I primi provvedimenti sono un innalzamento delle paghe ai soldati, poi l'acquisto di nove armi, poi la prosecuzione della repressione della guerriglia contro gli Eritrei. E in lei se la sia comunque non serve più. Nel settembre del 1974 viene ufficialmente detronizzato, ma non viene stavolta mandato in esilio. No, Mengistu non si fida, preferisce tenerselo vicino, come ostaggio. Lo rinchiude nell'abituazione del custode del giardino del piccolo gebì, un bugigattolo, una baracca, dove Ailem Sera sia costretto a vivere sostanzialmente da solo, senza i servitori cui era abituato, senza la famiglia. Nella sera d'estate, il 27 agosto del 1975, mentre Ailem Sera sia, che ormai ha ben passato l'ottantina, ed è un vecchietto indifeso, sta dormendo, degli uomini in uniforme entrano in quel bugigattolo, circondano il letto, afferrano un cuscino, glielo premono sul volto, con forza, lo soffocano, lo uccidono. Muore così l'ultimo re dei re. Per lungo tempo non se ne sa nulla, non si hanno sue notizie. Il mondo esterno, a cominciare dai rastafariani, che vorrebbero andare in pellegrinaggio a onorare il discendente di Salomone, non hanno notizie, non sanno cosa sia successo. A loro viene sempre raccontato che l'imperatore non sta bene, che ha bisogno di una lunga vacanza. In realtà l'imperatore è morto, e per ordine di Mengistu viene seppellito tre metri sottoterra, sotto uno dei bagni al pian terreno del piccolo Gebi. Si dice che Mengistu sia paranoico, abbia il terrore che il fantasma dell'imperatore possa tornare a perseguitare lui e i suoi uomini. Quindi meglio tenersi il cadavere vicino. Occorreranno 16 anni per far luce sulla fine di Elie Selassie. 16 anni in cui l'Etiopia sarà devastata dalla più grande carestia che l'uomo ricordi. Una carestia che arriverà anche, suo ecco, nel mondo occidentale. Vedremo tutti quanti le fotografie dei bambini etiopi con gli arti secchi, la testa enorme, il ventre gonfio, mentre stanno letteralmente morendo. Ci saranno diverse iniziative umanitarie, il tentativo di salvare quei poveri bambini, di salvare l'Etiopia. Israele farà un ponte aereo per salvare i falascià, gli ebrei eredi, loro della pelle scura, della tradizione della regina di Saba e di Salomone, un'antica tradizione che si tramanda da secoli. Nel 1991 Mengistu, sconfitto, verrà finalmente cacciato. Solo allora si saprà della fine atroce di Elie Selassie, l'ultimo re dei re, morto soffocato, con un cuscino in faccia e seppellito sotto un bagno. I suoi resti verranno esumati e poi seppelliti nella cattedrale della Santissima Trinità ad Addis Abeba, dove oggi riposa in una tomba monumentale, una tomba che è ancora oggi meta di pellegrinaggio, non più di Bob Marley, morto per un tumore tanti anni fa, ma di tutti i restafariani, quelli che ancora oggi, dopo tanti anni, credono nella divinità, di Elie Selassie, re dei re, potenza della Trinità, ultimo erede di re Salomone, non della sua ricchezza, ma della sua saggezza e di una tradizione biblica che a volte travalica la realtà, travalica anche le scritture, ed è arrivata ai giorni nostri sotto le sembianze di una popolazione che ci sembra tanto distante, ma che ha portato con sé una tradizione millenaria che ancora oggi, in fondo, ci affascina. Grazie. Grazie. Grazie.